Benvenuti a tutti in questo nuovo video, o meglio, in questo nuovo corso, dato che questo sarà un video diverso dal solito. Allora, me l'avete chiesto in moltissimi, sia su LinkedIn e anche su Instagram e qui sotto sui commenti di YouTube. Ho deciso di portarvi finalmente un contenuto che riguarda appunto gli e-commerce, come vediamo qui con Shopify. Ma vediamo un po' come creare un e-commerce in circa un'ora. Sarà un video piuttosto lungo, ma appunto ve l'ho suddiviso sui vari paragrafi, in modo che potete schippare o tornare indietro in base alle vostre esigenze. Questo corso ha lo scopo di darti informazioni utili per iniziare fin da subito, rendere le informazioni accessibili a chiunque e insegnarti a muovere i primi passi per sviluppare uno store. Darti anche la possibilità di crearti qualcosa che ti dia una soddisfazione economica, perché in fin di conti è qui che volete arrivare. Come mi avete scritto in moltissimi, dopo tutto arrotondare il proprio stipendio, se magari siete dipendenti, o semplicemente avete voglia di mettervi in gioco e vedere qualcosa nell'online. Questo è un video che puoi fare al caso vostro. Cosa impareremo in questo corso? Come ricercare un prodotto da vendere? Cosa vendere e come venderlo? Come creare uno store con Shopify a livello pratico? Dopo vi spiegherò anche perché ho scelto Shopify per la sua semplicità, ma dopo vedremo anche per quali altri motivi. E come sfruttare la prova gratuita di 14 giorni, che vi lascio qui sotto in descrizione, che offre Shopify per rendere lo store pronto all'uso. E inoltre creare un negozio online partendo da zero. Cosa ti chiedo in cambio? Presta attenzione, prendi appunti e agisci e non lasciarti abbindolare da chi ti dice che è troppo complesso. Perché ti dico la sincera verità, non è vero. Basta applicarsi, basta impegnarsi. Ovviamente non è semplicissimo, ma non è neanche troppo difficile e troppo complesso. Non serve assolutamente un programmatore o uno scienziato o chissà cosa. Basta applicarsi e mettersi a studiare. Appunto siccome è sotto forma video, puoi sfruttarlo e guardarlo e riguardarlo quante volte vuoi. E in più, se sei un iscritto, puoi commentare qui sotto e ti risponderò nel caso in cui hai qualche dubbio. Ricordati che queste skill che apprenderai sono pagate profumatamente e te le sto regalando. Come si deviderà questo corso? In due parti principali. La prima di Alibaba e la seconda di Shopify. Alibaba guarderemo come ricercare un prodotto e come valutare un fornitore. Per Shopify invece faremo l'iscrizione, il setup e le varie impostazioni, l'inserimento dei prodotti, il layout, la grafica e poi molte altre skill. Ma partiamo subito con la prima parte dedicata ad Alibaba. A questo punto dovremo fare la scelta del nostro prodotto. Per la scelta del nostro prodotto e di conseguenza anche del nostro fornitore ci affideremo ad Alibaba.com. Per chi non l'avesse mai utilizzato non si preoccupi perché ora vedremo tutto passo passo ma è veramente molto semplice e intuitivo. È un normale sito internet dove possiamo trovare veramente di tutto. Come vediamo qua c'è dall'elettronica di consumo, l'abbigliamento, veicoli, sport, intrattenimento, casa e giardino, bellezza e cura personale. E molto altro ancora. Per lo store in questione che andremo a vedere oggi, l'esempio che voglio portarvi si basa principalmente su un single product store. Ovvero il nostro sito avrà un unico prodotto venduto perché andremo a rafforzare il brand e si identificherà nel prodotto stesso. Dopo capirete meglio il perché. Qui c'è una barra di ricerca molto semplice. Una volta era solo in inglese con la traduzione, adesso invece piano piano stanno migliorando. E riusciamo semplicemente a ricercare di tutto. Però il consiglio che vi do è sempre di fare delle ricerche in inglese perché i metatag del sito ricercano i prodotti in maniera più approfondita e trovate più prodotti. In questo caso il prodotto che andremo a cercare noi è il Mosquito Killer. Mi sono appena accorto di aver scritto Killer con tre L e di fatti non mi dà quello che a noi interessa. Allora eccolo qua. Il Mosquito Killer altro non è che un aggeggio elettronico che per mezzo dei raggi UV sono le zanzariere elettriche. Questo prodotto è un prodotto che in estate va molto e questo ve lo dico dopo aver fatto una ricerca potete confrontare lo stesso articolo su Amazon e vedere la quantità di recensioni e attraverso vari tool la quantità di prodotti venduti e li capirete che c'è un mercato che è abbastanza per non dire molto espanso. Allora per la scelta del vostro prodotto vi consiglio sempre di intanto non guardare solo il prezzo. Ovviamente questi sono prezzi indicativi perché si vede dai qualche centesimo di euro all'euro e poi vedremo anche prodotti da 20-30 euro. Questi prezzi sono solamente indicativi. Vi consiglio sempre di contattare direttamente il fornitore. Quando avete visto il vostro prodotto che magari il design è abbastanza accattivante o comunque vi può piacere e pensate che sia un prodotto vendibile vi consiglio sempre di contattare magari più di 5-10 fornitori alla volta. Questo perché? Perché questo ci permetterà di capire quali sono i fornitori migliori e chi dà una risposta ovviamente devono parlare l'inglese. Ora Alibaba se non erro dovrebbe aver introdotto da qualche mese anche la traduzione automatica in italiano. Se avete qualche problema ovviamente c'è Google Traduttore che vi aiuta. Ad esempio questo prodotto se noi andiamo a vedere qui ovviamente troverete dei prezzi scaglionati in base alle quantità acquistate. Allora quando ci sono più articoli è sempre magari meglio perché possiamo diversificare il colore magari nel nostro store potremmo mettere la vendita sia bianco che nero e vi consiglio di controllare che ci siano magari più di qualche immagine magari qualche video, una descrizione del prodotto e la cosa più importante per qualsiasi prodotto voi scegliate bisogna sempre controllare questa diciamo tabella dove è un riepilogo del vostro fornitore dove Gold Supplier vuol dire che è un ottimo Alibaba ha classificato come un fornitore oro diciamo questo fornitore e che abbia sempre la Trade Assurance come vediamo qui la Trade Assurance è un servizio di protezione degli ordini integrato di Alibaba questo ci permetterà di avere una maggiore garanzia nel momento in cui andremo ad accordarci o a creare un contratto con il nostro fornitore un'altra cosa molto importante è la tariffa di consegna puntuale se trovate punteggi che sono inferiori al 75-80% un consiglio da parte mia è di lasciare perdere questo perché? questo vi farà perdere tantissimo tempo e inoltre non avrete la sicurezza nel momento in cui riceverete la merce che questa arrivi in tempo e questo può creare molti disagi soprattutto se ovviamente in termini di costi ci soffermiamo un attimo sui dettagli del prodotto qui andremo a vedere una serie di caratteristiche che ci fanno capire che cosa è il prodotto la grandezza, la quantità, il tempo previsto per le spedizioni il peso, le misure varie e poi ci sarà una descrizione del prodotto dopo per comodità oggi ovviamente magari pescheremo direttamente delle immagini o le richiederemo direttamente al nostro fornitore per intanto quando lavoreremo su Shopify avere già delle immagini una cosa molto importante è quella delle certificazioni sulla sezione certificazioni devono esserci adesso in questo caso sono tutte in cinese noi dovremmo richiedere quelle tradotte in inglese nel momento in cui partiremo e soprattutto il contatto del fornitore dovrà essere veloce come qui già abbiamo SGS, FDA quindi abbiamo tutte le varie certificazioni le certificazioni vi serviranno nel momento in cui dovremo importare altrimenti alle dogana avremo dei problemi e dovremo pagare diversi soldi diciamo per sbloccare la merce sempre se ce la fanno sbloccare ovviamente con le certificazioni alla dogana non dovreste avere problemi in ogni caso dovete sempre chiedere al nostro fornitore al vostro fornitore scusate tutte le certificazioni e tutte le caratteristiche che volete che il vostro prodotto abbia ci resta ora che contattare il nostro fornitore come vi accennavo prima vi consiglio vivamente di contattare più di un fornitore e di fare delle semplici domande io per comodità mi ero già preparato un piccolo testo dove potete chiedere semplicemente che siete interessati al prodotto e chiedere la quotazione dei pezzi che desiderate acquistare ad esempio io ho scritto molto semplicemente salve sono interessato all'acquisto del vostro prodotto repellente per zanzare vi farò alcune domande per capire se possiamo stringere una collaborazione e la prima domanda è siete in grado di fornirmi tutte le certificazioni necessarie per l'importazione in Europa del rispetto delle nuove norme come vi spiegavo prima ovviamente la certificazione è essenziale altrimenti in Italia non portate niente ormai e la seconda domanda che gli ho fatto è potete fornirmi un campione personalizzato con il logo del mio marchio e se sì quanto costa avrei bisogno della quotazione di mille pezzi personalizzati magari qua possiamo fare poi 500 e 500 perché questo prodotto c'è sia bianco che la versione nera e ho anche bisogno di conoscere i tempi i costi di spedizione in Italia grazie Matteo ok allora fatto questo non ci resta che adesso io ovviamente essendo un video tutorial non invierò la card qui vi viene fuori business card una volta che voi date il consenso se questo fornitore in particolare non risponde in base a quello che scrivete qui sarete contattati da 5000 fornitori quindi vi consiglio di toglierlo così avete solamente il contatto con il fornitore che decidete voi in ogni caso ci sono veramente tantissimi fornitori e basta un attimo dare un'occhiata per fare una ricerca molto veloce vi consiglio di guardare qui Alibaba è molto forte in questo la quantità espressa in dollari di transazioni più è alta più solitamente il fornitore è presente da molti anni oppure vende questo prodotto cioè questa qua è la cifra dove il fornitore ha generato vendendo il prodotto in questione guardate sempre da quanti anni esiste e che sia un fornitore certificato e dopo insomma ci sono tutte le stelline diamantini qua che piacciono tanto denotano secondo Alibaba un buon fornitore non è sempre così in ogni caso voi contattatelo sempre e una volta che avete trovato il vostro prodotto procedete con lo store bene ora arriva la parte più divertente che è quella della creazione dello store tramite la piattaforma Shopify allora molto probabilmente la conoscerete già o l'avrete già sentita almeno una volta Shopify è una piattaforma davvero semplice per creare store principalmente si utilizza per fare e-commerce e diciamo che è la piattaforma più utilizzata rispetto a un WooCommerce o Magento o PrestaShop che sono magari più complessi e difficili anche da strutturare allora una volta che vi trovate in questa schermata andremo direttamente a registrarci adesso io ho già un account quindi questa parte ve la faccio vedere in maniera molto veloce andrete a mettere non so la vostra mail e poi andremo a fare start free trial ovviamente metterete le vostre password e farete create your store e gli date il tempo che carichi e poi come vediamo qua ci verrà fuori il nostro dominio con moschito myshopify.com adesso vi spiego subito come dovremmo fare a sostituire questo dominio ah un attimo adesso ci farà delle domande per Shopify per capire cosa facciamo con questo sito allora è già cominciato a vendere vendo già ma non online vendo con un altro sistema sì queste domande potete anche saltarle però vi consiglio di farle per un semplice fatto che poi non si sa mai che vi blocchino l'account o cose del genere quali sistema usi di più allora non ho mai giunto perché stai creando questo negozio voglio iniziare a una nuova utilità quali sono le tue entrate attuali no non ancora in quale settore allora perfetto qua andiamo avanti qua ovviamente metterete tutti i vostri dati adesso vi resta solamente da premere entra nel negozio il tempo che lui si sintonizza con tutti i dati che avete confermato e qui vedremo la schermata principale di Shopify avendo i 14 giorni di prova gratuita vi comparirà questo il tuo periodo di prova è appena iniziato altrimenti vi basterà selezionare il piano e scegliere tra questi qui c'è quello basic da 29 piano Shopify da 79 piano advance che vi consiglio di attivare solo nel momento in cui avete un business già attivato ma va più che bene anche questo da 29 euro al mese dove potrete inserire due membri dello staff e fino a 4 sedi che a noi interessa poco perché facciamo solamente online ma andiamo sulla home qui dovrete inserire la vostra partita IVA ovviamente se non l'avete ancora aperta vi basterà intanto creare tutto lo store e una volta che andate poi a vendere ovviamente dovrete inserire la vostra partita IVA e tutte le vostre informazioni ovviamente sugli ordini non avremo niente perché comunque questo qua è uno store di prova e qua comunque ci sarebbero tutte le varie dashboard dei vostri ordini riepiloghi check out abbandonati qua avremo i prodotti dove poi andremo a inserire il nostro prodotto in questione l'inventario trasferimento collezioni buoni regali se volete fare dei coupon basta andare qui dopo vedremo anche come fare qui potrete tenere traccia dei vostri clienti con le varie email la sezione analisi dove vi dimostra in tempo reale le vendite le sessioni del negozio online cioè quante persone stanno visitando il vostro negozio e tutte le varie informazioni di cui abbiamo bisogno per operare al meglio quando voi avete fatto accesso e avete dato un nome al vostro store dovete fare andare sulla sezione domini come vediamo qua ora ci compare sia qui moschito.myshopify.com e anche qui in alto ovviamente il lucchetto c'è perché comunque questo dominio è stato connesso al nostro account principale nel caso in cui invece vi consiglio vivamente perché è veramente brutto trovare moschito.myshopify o il vostro nome dello store .shopify.com andate su acquisto nuovo dominio anche qui vi consiglio di farlo direttamente da shopify per comodità pagate qui 1-2 dollari in più però non avete tutto lo sbattimento di trovare e cambiare diciamo o importare il dominio da un altro sito tipo Aruba o altri andate qui sulla barra e andate a mettere il nome del vostro store come vediamo qua è disponibile c'è .it .net .org .store .shop potete mettere alla fine quello che preferite ma vi consiglio di mettere sempre il .com adesso io non premo su acquista altrimenti lo acquista direttamente non è un dominio che mi serve attualmente se lo volete utilizzare voi sappiate che costa 14 euro poi in base al dominio potrete trovare una differenza di prezzo però indicativamente si va sempre dai 14 ai 30 40 dollari massimo a meno che non abbiate un dominio molto particolare o molto utilizzato allora il prezzo in questo caso salirà ora direi che è giunto il momento di iniziare a creare il nostro store di prova così vediamo a livello operativo quali sono i passaggi da fare e cosa fare in maniera molto semplice senza strafare vi ricordo inoltre che nel momento in cui andate a creare uno store soprattutto se siete all'inizio vi basterà mettere le cose basilari e intanto a contrario di quanto si dice cercare di rimanere il più semplice possibile quindi scritte pulite poche estensioni poche applicazioni il giusto che permetta al cliente di entrare all'interno del vostro store e acquistare il prodotto o servizio che voi state vendendo poi i vari test vengono effettuati in base anche poi all'esperienza d'uso e consumo del vostro cliente allora sulla sezione negozi online se noi premiamo qui andremo direttamente su temi oggi la connessione non vuole accelerare e troveremo come tema in uso solitamente quando fate la prova gratuita troverete debat o debut adesso non so come si pronuncia in ogni caso se noi andremo qui su anteprima ci mostrerà come appare il nostro store qui avremo una scritta che è quella che abbiamo dato noi lo store molto semplice con delle immagini la galleria i prodotti che adesso qui sono tutti vuoti ovviamente troverete lo store vuoto perché dobbiamo andarlo a riempire noi e home e catalogo qui c'è il carrello qua c'è un cerca allora già così di per sé con questo tema tra l'altro è anche gratuito avete già una buona base di partenza quindi il consiglio mio è a meno che non siete già esperti o avete già avuto modo di fare qualche store su shopify anche solo per provare e assumere più dimestichezza nella costruzione del vostro store iniziate pure con debatt se invece proprio non vi piace e volete un tema più professionale a pagamento vi basterà scendere qui sotto e andare su libreria temi possiamo andare a vedere gli altri temi gratuiti che troverete qua ad esempio un altro abbastanza carino è bundless che è questo qui per chi vende abbigliamento soprattutto o comunque diciamo è molto versatile è molto semplice non sono brutti e sono tutti veloci questo qui adesso ho visto che sta andando per il food e comunque in ogni caso sono tutti personalizzabili quindi non è che uno è per il food uno è per l'ambiente cioè qui dopo andremo a personalizzarli come vogliamo in ogni caso se non siete soddisfatti dei temi che vi vengono forniti da Shopify in maniera gratuita vi basterà andare qua su visita temstore e troveremo altri temi che saranno anche a pagamento ad esempio c'è colors cercherete magari anche l'industria di cui fate parte se è elettronica se sono gioielli se sono in casa giardino o nel beauty ad esempio se noi clicchiamo qui troverete magari familiari alcuni di questi temi dato che molti brand molto in voga molto famosi li utilizzano ad esempio questo dovrebbe essere quello di Sephora che dopo viene riadattato ma ce ne sono molti altri in ogni caso poi andrete voi a scegliere ma torniamo a noi e basta fatto questo atterrerete sulla vostra schermata principale una volta fatto il login andate subito su impostazioni andate su generali andate a modificare il nome del vostro sito nel caso in cui voi vogliate che venga diciamo visto con un nome diverso dopo vi spiegherò anche il perché il nome che scrivete qui dopo verrà visto anche all'interno del sito e anche sul nome della barra che apparirà qua se voi lo volete in piccolo potete lasciarlo in piccolo altrimenti potete anche metterlo tutto in maiuscolo ad esempio non so se registrate il marchio metteremo scritto original con la R viene un po' più carino e vi basterà poi selezionare il vostro diciamo settore del negozio questo vi servirà nel momento in cui un acquirente acquisterà tramite la piattaforma Stripe che vi consiglio vivamente altrimenti potete usare anche Shopify Payment molto semplice comparirà la fattura in automatico con il settore del negozio non tutti lo richiedono però voi mettetelo per sicurezza nome dell'azienda qui inserirete il nome della vostra azienda se l'SRL o SRLS oppure quello che volete SPA e inserirete tutti i vari dati metterete le unità di misura metterete se ad esempio l'ordine volete inserire un prefisso specifico magari avete un gestionale vostro interno andrete a metterlo qui ad esempio il mio gestionale utilizza il termine ADA e poi ci sono i punto 1000 01 slash e poi parte con ad esempio 001 l'ordine poi è 002 e via così però queste qua sono piccolesse qui avrete la valuta del vostro negozio nel caso in cui vogliate vendere anche extra way andrete a selezionare la valuta del paese di riferimento una volta fatto questo sempre su impostazioni andremo a configurare i vostri pagamenti come vi accennavo prima il vostro metodo di pagamento potete utilizzare Shopify payment molto comodo la commissione una volta era un po' più alta adesso l'ho messo allo 0% più un 1.6 e 0.25 centesimi che è davvero poco oppure potete usare anche Paypal che in Italia è ancora molto utilizzato perché la gente si fida e quando vede Paypal comunque dà un senso di serenità e serenità al vostro sito web al vostro store oppure dopo ci sono anche altre estensioni come Amazon Pay che vi sconsiglio vivamente di utilizzare in quanto è lento e dovete dare altre commissioni in terze parti se invece come c'è scritto qua gestori di terze parti andrete a scegliere ad esempio Stripe che qui non compare in ogni caso se avete un account Stripe è molto semplice vi basterà andare su Stripe.com creare un account collegare una vostra carta e quella carta verrà selezionata e aggiunta al vostro store facendo così avrete tutti i check out e le registrazioni con Stripe però vi ripeto potete partire benissimo con Shopify Payment perché comunque supporta già Visa Mastercard Amex Apple Pay Google Pay e tutti i più utilizzati ancora una volta andiamo in impostazioni qui ci sono le impostazioni di check out account clienti scegli se vuoi far creare al cliente un account al momento del check out allora qui diciamo va un po' descrizione vostra nel senso che potete utilizzare l'account facoltativo cioè i clienti potranno effettuare il check out tramite un account cliente o come ospiti oppure obbligatorio allora obbligatorio può essere un pro e un contro ad esempio se voi andate sul sito di Bershka piuttosto che Pull&Bear Zara o cose sono tutti account obbligatori perché tracciano la vostra mail e poi vi ritargettizzano tramite sconti e secondo me diciamo può dar fastidio perché magari voglio acquistare sporadicamente su quel sito e continuare a ricevere magari mail su mail da parte di chi acquista a volte può dar fastidio però a seconda della vostra scelta potete decidere cosa mettere comunque in ogni caso io vi consiglio di mettere account facoltativo in modo che se una persona poi si vuole registrare comunque vi lascia la mail e in quel caso acconsente il trattamento dei dati personali che in ogni caso vi darà per gli ordini e anche al sezione marketing recapiti del cliente i clienti possono effettuare il check out con il numero di telefono o email allora questo lasciate pure che utilizzino sia il numero di telefono che email perché quando il corriere andrà a casa del vostro Mario Rossi e non lo troverà se c'è anche il numero di telefono magari lo chiama e voi non pagate il terzo giro che solitamente non c'è e è a carico di chi vende per ricevere aggiornamenti sulla spedizione eccolo qui date pure la spunta ad entrambe oppure se avrete una vostra app tramite ripeto DHL, GLS UPS o altri corrieri inserirete qui l'app l'opzione modulo è quello che il nostro cliente si ritroverà a compilare ovvero richiedi solo cognome richiedi nome e cognome ovviamente il nome dell'azienda mettete pure facoltativo nel caso in cui non ce l'ha basta che lascia in bianco e non dovrà inserire obbligatoriamente niente l'indirizzo ovviamente questo qua deve essere obbligatorio e numero di telefono indirizzo di spedizione anche questo io metto sempre che sia obbligatorio per il discorso che vi spiegavo un attimo fa mance questo viene utilizzato all'estero dubito che qualcuno nel momento in cui acquista online soprattutto in Italia faccia mance in ogni caso io non lo lascio mai spuntato e poi c'è l'elaborazione dell'ordine mentre il cliente sta effettuando il check out per impostazione predefinita utilizza l'indirizzo di spedizione come l'indirizzo di fatturazione questo potete utilizzarlo e la bidita è completamente automatico dell'indirizzo questo qua potete lasciare senza l'elaborazione dell'ordine in questo caso mentre il cliente sta facendo il check out il nostro sistema metterà come predefinito l'indirizzo di spedizione o di fatturazione in questo caso io metto sempre richiedi conferma i clienti devono rivedere i dettagli dell'ordine prima dell'acquisto perché ad esempio l'indirizzo di spedizione è diverso uno si fa ricapitare il proprio pacco al lavoro piuttosto che in ufficio o vuole fare un regalo dopo che un ordine è stato pagato evado in automatico le voce dell'ordine questo lo consiglio a chi vende prodotti digitali ad esempio ebook piuttosto che consulenze o altre forme comunque che non sono oggettistica altrimenti mettete sempre non evadere in automatico alcune voce dell'ordine e lo evaderete in manuale in questo caso vi faccio vedere un esempio sullo store che dicevamo prima se andiamo su ordini in questo caso pagamento in attesa quando succede questo a seconda ad esempio il nostro cliente è arrivato al check out è andato a pagare magari questo costa 199 euro il nostro cliente ne aveva 197 quindi Stripe o Shopify Payment non permette il completamento dell'ordine perché mancano soldi oppure se è in evaso come in questo caso vuol dire che il nostro pacco è diciamo in spedizione e quindi deve ancora arrivare al nostro cliente dopo questi qua sono tutti i setup che potete mettere o non mettere io consiglio sempre di metterli in modo che anche voi da gestionare poi riuscite a vedere i vari ordini a che punto sono tornando a noi sono degli script aggiuntivi nel caso in cui vogliate aggiungerle ma solitamente non viene utilizzato poi c'è la furbata come la chiamo io che è qua l'email marketing consente ai clienti di registrare per ricevere email marketing di checkout qua potete lasciare magari preseleziona le opzioni di registrazione in questo caso il vostro cliente quando andrà ad acquistare automaticamente darà il consenso a ricevere email di marketing lo fanno tutti non è una truffa non è state tranquilli non succede niente comunque al cliente gli viene richiesto nel momento in cui dà la mail effetto l'acquisto dà il consenso in automatico la lingua del check out gestisci la lingua per il check out qua è in inglese non so perché in ogni caso mettete in italiano e basta queste impostazioni comunque sono concluse poi ci sono spedizioni e consegno andremo a inserire tutte le tariffe qui andremo a gestire le tariffe di spedizione in questo caso verranno spedite dal vostro magazzino in Italia e se vendete diciamo in Europa potrete fare aggiungi tariffa qui viene fuori in automatico standard express tariffa forfettaria personalizzata a seconda delle tempistiche di spedizione in questo caso magari potete mettere l'express con un supplemento di non so 9,99 euro andate qui e aggiungete le due tariffe adesso ok sono tutte e due a 9,99 magari mettete la modifica tariffa e qui farete che è gratuita in ogni caso qui se poi andrete a vendere anche ecco qua vi vengono addirittura messe in automatica come vendiamo qua se vendete in Europa il prezzo salirà se vendete il resto del mondo il prezzo salirà lo deciderete voi e sentirete in base al contratto che vi farà il vostro corriere andando sempre sulle nostre impostazioni qua andremo a mettere le imposte altro non è che le aree fiscali da dove le vendete voi dovremo mettere Italia in questo caso aggiungere la nostra partita IVA come dicevamo prima nel momento in cui iniziamo a vendere ritornando qua qui andrete a gestire le sedi nel caso in cui vogliate velocizzare le spedizioni vi ricordo che in Italia le spedizioni più veloci partono da Milano Bergamo Verona insomma le grosse città e se dovete spedire da nord a sud magari gestitevela con due logistiche o comunque nel momento in cui andrete a gestire il contratto con la vostra logistica di riferimento e magari vi fa anche il fulfillment mettete che l'evasione sarà in automatico in questo modo una volta che avviene l'ordine del vostro cliente il check out verrà automatizzato e l'evasione dell'ordine verrà fatta il prima possibile assicuratevi che la spedizione sia il più veloce possibile piuttosto pagate quella euro e 50 2 euro e 50 in più al vostro corriere ma garantite al vostro cliente un servizio stile amazon prime perché ormai amazon ha abituato tutti bene e che il pacco lo ordino oggi lo ricevo fra 15 giorni sinceramente a me fa incassare qui avrete tutta la sezione di notifiche ovvero tutte le notifiche che riceverà il vostro cliente dal momento dell'ordine queste adesso sono preimpostate ma potete personalizzare tutto potete mettere la conferma l'ordine modificato la fattura questi qua sono tutti automatismi che crea Shopify direttamente con il piano basic e che invia nel momento in cui il vostro cliente fa un ordine riceve tutto quanto sono tutte impostazioni che personalmente non sto neanche qui a farvi vedere più di tanto perché sono veramente semplici e sono quasi tutte preimpostate poi tutte queste cose i file carica immagine possiamo caricare direttamente sulla nostra pagina prodotto che vedremo tra un attimo la lingua del negozio fatturazione la parte legal che è molto 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 importante una volta che andrete qui potrete fare o crea modello e vi darà diciamo un modello già precompilato che viene fatto sulla base di Shopify però vi consiglio sempre come c'è scritto qua di leggere tutta la liberatoria e valutare se vi conviene oppure se vi conviene pagare un piccolo servizio come se non ricordo male Ubenda anzi guardiamo subito che non è altro che un generatore di privacy policy GDPR e tutte le varie normative che servono per avere un sito diciamo a norma come vedete qua Ubenda non è l'ultima arrivata e lavora per marchi abbastanza importanti in ogni caso vi basterà andare su inizio e la generazione andrete a inserire il nome del vostro store che in questo caso non posso mettere perché non ho acquistato il dominio o comunque non ci interessa e seguirete inizio generazione vi genererà in automatico attraverso i loro algoritmi il GDPR tutta la privacy policy e tutta la parte legale che serve all'interno di un sito se invece volete solamente provare e magari intanto settare il vostro store sempre in maniera conforme alle varie norme potrete mettere crea modello adesso io non capisco perché me lo prende in inglese e ho tutto in italiano però in ogni caso vi basterà tradurlo l'informazione su privacy policy il consenso poi ci sono i termini di servizio insomma vi basterà proseguire così in ogni caso magari anche con Ubenda io mi sentirei molto più tranquillo io utilizzo Ubenda da ormai due anni mi sono sempre trovato bene i loro servizi partono dai 79 euro se non mi sbaglio e vanno fino ai 200 300 500 euro a seconda di ciò che avete bisogno adesso che abbiamo visto tutte le varie impostazioni andremo a creare il nostro store partendo appunto dall'inserimento dei prodotti andando sulla sezione prodotti andrete a cliccare aggiungi prodotto e andremo a inserire il nostro prodotto singolo come dicevamo prima che poi si tramuterà in due colori però inizialmente andremo a scrivere moschito qui andrà fatta tutta la varia descrizione ad esempio repellente repellente per zanzare eccetera eccetera adesso sto facendo proprio una cosa molto semplice spartana molto brutta qui andrete a scrivere una bella descrizione con un vostro script dove cerca di esaltare quello che è il prodotto dare diciamo a descrivere in maniera sintetica il vostro prodotto e dopo vi consiglio di ragionare di più con i contenuti perché come avrete già visto quasi tutti i siti ormai ragionano con video foto e multimedia vari quindi andremo a inserire qui le nostre immagini ad esempio io adesso le ho già scaricate nel prodotto che abbiamo scelto prima ho trovato un altro modello che mi piaceva sempre dallo stesso fornitore gli ho chiesto sulla mail di mandarmi qualche foto in più e quindi lui mi ha passato un paio di immagini che erano un po' più carine e quindi andremo a selezionarcele e andremo a caricarcele una volta che faremo carica contenuti avremo le nostre foto dei vari prodotti dopo andremo a inserire il nostro prezzo che potrà essere ad esempio 79 euro e 90 centesimi prezzo di confronto se questo vi servirà più che altro per mettere la solita diciamo il rialzo e ribasso del prezzo ovvero prima costava 199 e scontato lo trovo a 79 se invece non volete metterlo vi basterà lasciare la sezione vuota in questo caso lo inseriamo per farvi vedere mettiamo non so 129 euro punto 00 qui andremo a inserire il nostro costo di produzione totale il nostro costo di acquisto o come volete chiamarlo che sarà composto dall'acquisto la spedizione da parte del nostro fornitore e anche vi consiglio di incorporare la spedizione che andrete a fare voi al vostro cliente in modo da magari da potergli garantire la spedizione gratuita che è già compresa all'interno del nostro prezzo finale in questo caso il nostro prodotto ho fatto i miei conti ci costa 35 euro con la spedizione express in 24 ore da parte di DHL qui andremo a inserire il nostro inventario quindi qui vi consiglio sempre di aggiornarlo nel momento in cui avete fatto l'ordine mettiamo ipotesi di 100 pezzi qui andrete a inserire il vostro codice AN codice a barre o insomma il vostro sistema e la quantità disponibile in questo caso metteremo non so 99 pezzi disponibili dopo qui è una cosa che potete automatizzare il nostro peso del prodotto che è 1.120 e poi tutte le varie informazioni se volete mettere anche se qui invece volete inserire le varianti come in questo caso il nostro colore potete mettere colore bianco virgola colore nero virgola con la virgola andrete a creare dei tag che differenziano il prodotto anche nel momento poi in cui andate a fare l'inventario la collezione e singolarmente quando il nostro cliente vedrà il prodotto ritorneremo sulla pagina principale del nostro prodotto una cosa che dimenticavo è di inserire l'immagine anche all'interno della descrizione adesso qui non abbiamo scritto granché possiamo mettere repellente per zanzare oppure semplicemente fare un po' di copi come stanco di essere disturbato mentre dormi non lo so insomma fate voi adesso non mi viene niente di che in ogni caso andate qui su inserisci immagine io ce le ho già pronte selezionate l'immagine che volete e andrete a sistemare poi la vostra immagine che in questo caso qua le scritte sono in inglese è solo per farvi vedere dopo come apparirà all'interno del vostro store se volete aggiungere più di un'immagine o un video vi basterà sempre andare sulla vostra diciamo pagina e cliccare su inserisci una volta fatto questo ricordate sempre di salvare altrimenti non vedete niente per vedere il risultato finale vi basterà andare qui in alto a destra e premere su anteprima qui comparirà il nostro prodotto adesso in questo caso l'immagine molto brutta e di qualità molto scarsa però immaginatevi che voi andrete a prepararvi la vostra diciamo immagine la vostra descrizione fatta bene e comparirà poi tutta una landing page molto carina anche con un tema gratuito come questo qua che stiamo guardando che è debatt e poi il nostro cliente selezionerà la versione bianca e la versione nera e potrà acquistare questo qua il prezzo che avevamo visto prima assieme e potete anche lasciarlo nel caso in cui lasciate la seconda sessione a 0,00 vedrete il prezzo solamente in nero senza la scritta in saldo una volta che aggiungiamo anche al carrello possiamo dare un'occhiata al carrello che adesso vediamo come modificare tornando invece al nostro menu sempre di Shopify qui troveremo i tag questi qua andranno aggiunti ad esempio non so lampada UV e ci serviranno a noi per riorganizzare la collezione in questo caso non abbiamo una quindi non sono influenti diciamo per quanto riguarda invece un'altra cosa abbastanza importante se noi andiamo su la sezione negozio online e personalizza qui viene fuori la scritta che ci dà preselezionata il tema di base se noi invece abbiamo già un marchio io ho fatto un piccolo schizzo molto veloce e vogliamo inserirlo vi basterà andare qui su header e fare seleziona immagine io ho creato proprio un logo molto molto semplice che adesso vi ingrandisco così gli date fate un'occhiata no sbagliato selezioniamo e qua andremo a selezionare anche la grandezza del nostro logo mi raccomando fatelo in png senza sfondo altrimenti non comparirà quello che volete insomma potete farlo centrato oppure laterale a me personalmente piace di più lasciarlo laterale una volta che avete completato questo passaggio possiamo ritornare indietro e andare a cominciare a personalizzare un po' il nostro store immagini e contesto anche qui andremo a selezionare una delle nostre immagini molto cheap come in questo caso e sbagliato e adesso voi non fateci troppo caso perché questo qua come vi ripeto è solamente per farvi vedere un piccolo tutorial andremo a selezionarlo anche qui potrete mettere la vostra immagine che vi consiglio di fare comunque con i pixel 800x800 oppure massimo massimo 1200x1200 comunque immagini quadrate solitamente perché sennò dopo vi succede come in questo caso una riduzione dell'immagine perché o è troppo grande o è troppo piccola e vi risulta sgranata e molto brutta per diciamo ridurre questa cosa potete mettere il layout su larghezza fissa però personalmente non mi fa impazzire perché si vede il ritaglio qui e lo stacco è abbastanza brutto poi anche qua potete fare diciamo adatta ad immagine e selezionare i vostri e potete selezionare quello che preferite qua andremo a mettere magari la nostra descrizione oppure non so farete uno slogan uno slogan qui andrete a fare una piccola descrizione uno slogan o a mettere quello che volete ne scriveremo prove di Shopify e qua sulla nostra heading andremo a scrivere magari non so repellente numero uno in Europa sono tutte cose che sto scrivendo a caso solo per farvi vedere come risulta il layout poi ovviamente qua potete cambiare il font della della diciamo scritta potete metterlo in grassetto potete fare un collegamento che rimanda ad un'altra pagina insomma poi cominciate a smanettarci e prendete la mano è molto semplice anche qui selezioniamo un'immagine come in questo caso e poi farete tutta la descrizione date seleziona adesso andiamo anche abbastanza veloci se no diventa ripetitivo in ogni caso il sito poi andrà fatto in base alle vostre esigenze in base anche a ciò che vi piace o ciò che pensate che vada meglio per vendere qui ci sono le varie colonne di testo e anche qua andrete a inserire l'immagine la descrizione potete anche toglierle adesso queste qua ve le da di diciamo default il tema di Shopify e qui poi avete la vostra collezione prodotti che adesso vedete che ce ne sono sono tutte vuote fino a il footer cioè la parte finale del del sito qua di default vi rimane per toglierlo vi basterà andare qui vi insegno un piccolo trucchetto adesso vabbè io non ho più salvato niente però fa lo stesso andate su impostazioni qui in alto a destra lingue del negozio cambia lingue del tema qui niente cercate qui sulla barra delle traduzioni vediamo se me lo da powered by Shopify eccolo qua fate uno spazio salvate adesso noi andremo a rivedere ah l'avevo salvato alla fine ok se andiamo qui in basso allora qua non esce più niente adesso ok mi è rimasta una virgola qua che andremo bisognerebbe togliere poi c'è la c di copyright e la r di original che le abbiamo messe a caso ovviamente se non avete un marchio registrato con copyright non potete metterle questo penso che lo sappiamo tutti e niente ovviamente questo è il negozio come si presenta proprio nudo e crudo ma vediamo un attimo come aggiungere altre funzioni torniamo sempre alla nostra dashboard torniamo sempre al nostro menu andiamo su negozio l'importante è quella di andare a creare una pagina contatti in questo caso noi non abbiamo aggiunto nessuna pagina abbiamo solamente un sito con una landing page unica una pagina prodotto che è la landing page stessa che è la home se volete fare un sito un po' più sofisticato complesso o semplicemente un po' più carino vi basterà aggiungere le pagine qui in questo caso come vediamo qua l'esempio ci mette la possibilità di mettere la pagina contatti la tabella delle taglie nel caso in cui stessimo vendendo abbigliamento o domande frequenti ti consiglio di mettere le le pagine che più si utilizzano prendendo spunto magari dei siti un po' più professionali in modo che possiate farvi un'idea in ogni caso mettiamo qui contattaci e selezioniamo una pagina contatti qui adesso la lasciamo in in bianco o comunque la mettiamo proprio semplice questo qua è solo un esempio vi ripeto e andremo a vedere la pagina creata qui ci darà già un form che è questo qui che è molto semplice ovviamente vi ripeto questo qua è un tema gratuito non possiamo aspettarci chissà che grafiche in ogni caso se il nostro cliente ci lascerà i contatti e vuole contattarci lasciate sempre lo spazio per il messaggio il numero e l'email questa qua con l'asterisco è obbligatoria se lui non mette la mail ovviamente non parte da richiesta ma questa è una cosa che è normalissima ecco per personalizzare la pagina ci basterà far marci indietro un attimo e magari che ne so inserire anche qua un'immagine piuttosto che il nostro logo ci basterà andare qui se vogliamo renderlo un po' più professionale un po' più carino magari possiamo andare anche qui andare a mettere direttamente un link che riporta un'altra pagina insomma vedete voi in base a quello che avete mettere magari un numero verde 800 400 322 e magari questo lo andremo a evidenziare direttamente lasciando un link di chiamata diretta potrete anche mettere un'immagine adesso sto facendo proprio le cose in maniera tra virgolette a caso solo per dimostrarvi un po' delle funzioni che ci dà a disposizione poi per vedere sempre il risultato finale vi basterà andare su visualizza pagina e come vedete qua adesso è molto brutto non è formattato però insomma potete fare potete un po' sbizzarrirvi dimenticavo un'altra cosa molto importante è quella di verificare che in questo caso voi abbiate a vista il vostro prodotto che avete aggiunto prima alla sezione prodotti in questo caso come vediamo qui non c'è niente e neanche se andiamo su cataloghi non troviamo il nostro prodotto da 79 euro se non ricordo male cosa dobbiamo fare ci basterà tornare indietro andare su la sezione prodotti e qua controllare che non ci sia scritto stato del prodotto preliminare altrimenti non vi verrà attivato questo a cosa serve questa funzione serve nel momento in cui voi avete il vostro sito che è online e state aggiungendo nuovi prodotti in modo che il sito rimane attivo e quindi voi avete comunque le vostre entrate e le vostre vendite e potete aggiungere modificare o migliorare i vostri prodotti se io vado a premere su attivo ricordatevi sempre di salvare andrò a vedere l'anteprima che in questo caso non capisco perché non me la dà in ogni caso proviamo a ricaricare la pagina qui e scendendo no su catalogo eccolo qua ci troviamo il nostro prodotto che io andrò a aprire e automaticamente adesso mi renderà disponibile anche la pagina prodotto in questo caso bianco o nero se la giacenza è finita in automatico Shopify vi metterà questa scritta con scritto sold out noi procediamo con l'aggiunta al carrello del nostro articolo oppure se una persona dopo qui adesso tutte le scritte che vedete sono in inglese perché ce le ho settate in inglese ma potete benissimo cambiando la lingua dove abbiamo visto sulle impostazioni lingua cambiare nella lingua che preferite italiano o giapponese o quello che preferite se io faccio compra subito ovviamente qui mi dirà che non è disponibile perché noi non abbiamo ancora acquistato il nostro piano a pagamento però proviamo a fare aggiungere carrello andremo a vedere così vi rendete conto anche di come risulta a livello grafico all'interno del carrello e se vado su check out non ve lo mostra allora cosa facciamo vi mostro un altro store che ho attivo in modo che vi possiate capire su cosa fare allora perfetto questo qui ad esempio è un altro store e come vediamo qua comparirà questo check out molto semplice molto classico dove comunque quando acquistate è il classico check out che vi risulta dove dovete inserire tutti i vostri dati e poi effettuare ad esempio se noi disponiamo di un coupon andrà applicato e concludere il pagamento ma tornando al nostro store sto facendo un po' di mente locale per capire cosa mi manca da descrivervi in maniera molto semplice e aggiungere nel vostro store sono le recensioni per chi mi segue su linkedin avevo fatto un sondaggio qualche settimana fa dove praticamente avevamo chiesto dove praticamente avevo chiesto che cosa una persona ritiene più importante nel momento in cui acquisto e il 50% su circa 700 persone ha risposto le recensioni allora vediamo qui vi basterà andare sulla sezione app visita app store di shopify cercare lux e questo qua è un ottimo diciamo sistema per fare per aggiungere un vostro plugin al vostro per aggiungere un buon plugin di recensioni all'interno del vostro store vi basterà premere qui e fare aggiungi adesso questo qua ha un costo veramente irrisorio di 9 dollari al mese in ogni caso se volete provarlo ci sono i 14 giorni di prova gratuita vi basterà fare aggiungi app e scendendo qui in basso premere install app se intanto volete provare il sistema se vi piace se può fare al caso vostro vi basterà fare usa gratis e shopify ve lo renderà disponibile fin da subito ovviamente lo troverete poi nella sezione app se io vado fuori e rientro ce l'avete qui premete e andremo a fare magari diciamo tutto il settaggio qui andremo a selezionare la lingua qua potete selezionare se la recensione verrà pubblicata automaticamente o semplicemente solo nel momento in cui date il consenso io vi consiglio di lasciare magari da tre stelle in su questo non per un discorso di censura ma semplicemente perché lo fanno tutti addirittura c'è chi mette che cioè viene pubblicata solamente dalle cinque stelle in su lasciamo in quattro stelle in su poi qua ci sono tutti dei sistemi che ci aiutano a fare come vediamo qua un'email automatica e tutto quanto diciamo il setup in ogni caso ci sono veramente molte impostazioni dovrei stare qui a fare un'ora solo per spiegarvi come funziona ma è veramente semplice vi basterà leggere e c'è anche la modalità di risposta automatica anche perché se cominciate a avere 10-15 recensioni al giorno a meno che non assumiate una persona dedicata solo alla risposta delle recensioni dubito che ci state dietro ecco perché ci sono tutti questi automatismi questi plugin che vi aiuteranno questo qua è un esempio di cosa avviene nel momento in cui il nostro cliente va ad acquistare dopo a distanza di X Tempo che decideremo noi riceverà una mail con scritto ciao Mario Rossi ti saremo grati se condividessi come ti sei trovato con il nostro moschito se ha ammazzato le zanzare o se ti ha preso fuoco la casa in ogni caso lui dalla mail premerà scrivi una recensione e scrivendo comparirà direttamente sul nostro sito tutto qui poi la pagina delle recensioni apparirà direttamente qui sotto ovviamente adesso noi non abbiamo recensioni quindi non riesco a farvele vedere tutte queste diciamo sezioni si possono togliere in maniera molto semplice dal negozio dalla personalizzazione se una cosa non vi serve vi basterà andare sulla sezione ad esempio valeria e rimuovi sezione se invece vorremmo aggiungere qualcosa ad esempio queste qua sono le recensioni che dicevamo prima vi compare lux che è la nostra diciamo estensione però in questo caso non viene fuori nulla oppure non so volete inserire l'iscrizione nella newsletter e verrà fuori qui adesso noi l'avevamo inclusa nel footer però potete metterla dove volete poi altre sezioni che ci sono vi basterà scorrere qui avete anche un negozio fisico o potete mettere o siete un negozio di elettronica che vuole mettere gli orari di apertura per il ritiro direttamente in negozio vi basterà inserire qui tutta la mappa con ad esempio vi basterà inserire la vostra mappa e diciamo che è molto 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 semplice poi ci sono anche altre sezioni che potete aggiungere togliere potete fare un po' quello che preferite le collezioni in evidenza se avete un video vi consiglio di mettere anche un video all'interno del vostro store per comunicare in maniera un po' più diciamo professionale magari c'è un video del vostro team o la video presentazione della vostra azienda del vostro prodotto potete fare davvero tantissimo ripeto potete inserire un prodotto in primo piano in questo caso il nostro diciamo moschito in modo che appaia già qui la nostra pagina prodotto che anche qui poi potete modificare come preferite in questa maniera qui le sposteremo oppure addirittura se a noi non interessa si potrà eliminare allora ho finito il sito l'ho un po' abbellito per mostrarvi un po' il risultato finale ovviamente è stato fatto in poco più di un paio d'ore e quindi insomma è quello che in ogni caso andiamo subito a vedere allora come vedete qua ho anche cambiato il colore dei tasti anzi vi mostro subito come si fa andate su personalizza impostazioni del tema colori qui potrete cambiare qualsiasi tipo di colore sia come diciamo scritte sia come tasti come ho fatto in questo caso io ho richiamato anche ho cambiato il lo stemma diciamo ho cambiato il logo che ho richiamato lo stesso colore vi basterà copiare il codice colore e riportarlo sia sui tasti che sul resto ovviamente poi va anche in base alle vostre esigenze e a cosa vi piace di più allora diamo un occhio subito a come si presenta il sito nel sito ho fatto una landing page unica alla fine è molto semplice il tasto scopri di più mi rimanda semplicemente al catalogo perché non ho fatto altre pagine ma come vediamo qui ho messo delle immagini senza sfondo ritagliando e facendo il bordo se vi interessa un programma semplice può essere canva e potete farlo benissimo da lì se invece come in questo caso sapete usare un po' photoshop vi basterà fare un ritaglio dell'immagine e togliere lo sfondo ovviamente tutti i tasti in questo caso è un po' forse troppo aggressivo rimandano all'acquisto o comunque alla pagina e questo qui diciamo è il risultato finale questo pitch to zoom lo fa in automatico il tema debut che vi ricordo che è quello che abbiamo usato per fare questo video tutorial e poi qui ok ho aggiunto un po' di descrizione perché insomma era abbastanza brutto come era prima mentre il footer l'ho lasciato abbastanza nudo con l'iscrizione alla newsletter e un cerca con i vari link questi qua scusate con le varie carte che ricevono il sito per quanto riguarda il pagamento e basta diciamo che si presenta così ho aggiunto questo pop up che però vi viene già messo in automatico sempre dal tema debut nel momento in cui si aggiunge il carrello vi spunterà il menu a tendine e rimane questo qua è il carrello molto semplice qui rimane la scritta in inglese perché non ho impostato ma potete mettere il tuo carrello vi basterà andare sempre su impostazioni e traduzioni e cambiare da dove vedete che ci rimane diciamo la scritta in inglese piuttosto che qualcosa che non vi piace e volete semplicemente cambiare io penso di avervi detto tutto e spero che insomma questo video tutorial vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia utile per iniziare quello che si può dire un business online con una spesa molto ridotta e che può dare molte soddisfazioni in ogni caso se avete bisogno se volete farmi qualche domanda scrivetemela qui sotto nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un like condividete questo video affinché altri come voi possano usufruirne e sfruttare questo contenuto gratuito ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti